Ciao, sono qui a casa a parlare con la mia famiglia di genealogia, usando il sito gratuito di FamilySearch. Molti amici mi chiedono perché faccio genealogia, perché il passato, presente e futuro della mia famiglia mi interessano così tanto. Oggi voglio condividere alcune ragioni per cui è importante per me. Sapere da dove vengo mi rende felice. Conoscere la vita dei miei antenati ha guarito vecchie ferite familiari, ha portato luce nel mezzo delle incertezze della vita. Scoprire le esperienze dei miei antenati mi ha aiutato a sviluppare empatia. E infine adoro continuare a celebrare le tradizioni così come facevano i miei nonni. Interessante, no? Però chiaramente niente di tutto questo sarebbe possibile senza il sito gratuito di FamilySearch. In questo sito è possibile trovare tutti gli strumenti che ti aiuteranno a creare la tua propria storia familiare. Il più grande albero familiare collaborativo al mondo. Documenti storici in cui ricercare oltre 7 miliardi e mezzo di nomi già caricati. Una sezione dove conservare tutti i tuoi ricordi, caricando foto, audio, in un cloud offerto per sempre gratuitamente. Inoltre puoi contare anche su un centro di assistenza che ti aiuterà ad iniziare questo appassionante viaggio. Creare un account su FamilySearch è molto facile. Fallo adesso! Clicca su Crea account, inserisci i tuoi dati e hai fatto! Considera questi punti mentre inizi con la tua storia familiare. Primo, fai domande ai tuoi familiari più vicini. Secondo, guarda ciò che altre persone hanno già scoperto. Terzo, cerca informazioni sui tuoi antenati nei documenti storici. Adesso puoi iniziare. Clicca su Inizia ora. Comincia inserendo il tuo nome, i nomi dei tuoi genitori e dei tuoi nonni. Crea ed esplora il tuo albero familiare. Oppure scopri alcuni fatti interessanti sulla tua propria storia attraverso le esperienze di scoperta di FamilySearch. Ora che sai qualcosa di più su FamilySearch, ti invito ad imparare qualcosa di più su te stesso. Comincia inserendo il nostro canale! Grazie a tutti